Bella raga! Qui è Mirko D Ed oggi non siamo in un video come al solito Ma siamo in un video di sponsorizzazione Per ringraziare chi mi ha fatto la intro Kevin The Clash Allora, sia chiaro Io non faccio nessun tipo di sponsorizzazione a nessuno Quindi non venitemelo a chiedere nei commenti Ma lui, visto che mi ha fatto la intro Per... Diciamo, visto che me l'ha fatta gratis Per farsi... Per ringraziarlo Io gli faccio una sponsorizzazione Ma sia chiaro, non la faccio a nessun altro Allora raga La... La descrizione Il canale parlerà specialmente di intro Nebula... Nebulaus, non so come si chiama Vabbè Clash Royale Che però, senza offesa, ma si scrive Cle... Senza la S Però Clash Royale Iscrivetevi Lasciate like qua giù E condividete E io faccio intro gratis Proprio così Come me l'ha fatta me Allora Ho fatto tutti sti video Chi vuole una intro? Ecco qua C'ha 4 intro Ve le faccio vedere però Se... Mettiamo il volume basso Ok Allora Intro 4 di Minecraft Bella Ok Intro molto strano Intro 2 Kevin E bom Allora raga Iscrivetevi al suo canale Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi anche al mio E ciao Aspettate eh Scusate Non riesco a stoppare Oddio Non riesco più a stoppare Ciao